Il leitmotiv di quest'estate a Ischia sembrano essere lavori pubblici. L'altro giorno una protesta a Via Leonardo Mazzella, ma cosa sta succedendo e quanto andranno avanti questi cantieri? Qui tutti parlano di Ischia, è chiaro che su Ischia si sta facendo interventi estremamente importanti e si sta intervenendo su zone non interessate fino ad oggi, che sono anche abbastanza nevralgiche, molto delicate del territorio. Molti dei cantieri iniziati in parte si stanno spostando, sfilandosi dalla centralità, ma uno ne è rimasto, che è quello che sta creando una serie di tensioni, è quello di Via Leonardo Mazzella, dove evidentemente le imprese che si sono aggiudicate all'appalto, forse non pensando di dover affrontare le problematiche che hanno incontrato, non sono del tutto attrezzate per poterle risolvere abbastanza brevemente. Le notizie che ci giungono, per quello che abbiamo possibilità di capire, di apprendere e di spingere, sono che si stanno attrezzando e tutto il ritardo che fino ad oggi hanno accumulato, noi ci auguriamo con le attrezzature adatte, in parte si riesca anche a recuperare. Via Leonardo Mazzella poi, per quello che in questi giorni si sta tra l'altro vedendo con il malcontento delle persone, ma soprattutto che pur d'accordo sulle opere a farsi, sono praticamente estremamente spazientite dal fatto di vedere un cantiere immobile, nel senso che non va avanti, dobbiamo dire che Via Leonardo Mazzella è abbastanza servita, comunque non è che sia a vicolo cieco, cioè esclusa da ogni possibilità di accesso. Purtroppo ci sono molte attività e io questo mi rendo conto e chiedo scusa per tutto quello che queste imprese stanno causando, praticamente hanno anche un commercio di passaggio e quindi noi soprattutto a queste vorremmo che in qualche modo arrivasse il nostro messaggio di dire di avere ancora pazienza, perché nell'attimo in cui avranno trovato il regime, il ritmo giusto dei lavori, penso che la cosa si possa anche fare in fretta. E poi creeremo delle condizioni perché a un certo punto, visto che l'estate poi sta avvenendo ed è scoppiata, a un certo punto si possa trovare una soluzione con l'impresa per poterle in qualche modo interrompere. Ad ogni buon fine e allo studio, per la parte alta di Via Leonardo Mazzella, il cantiere in questo momento fermo che dovrebbe riprendere l'Uledì, la possibilità comunque di lasciare una corsia aperta, a senso unico alternato, e quindi cercare di alleviare quelli che sono i disagi che attualmente si stanno registrando. Nel corso dell'ultimo Consiglio Comunale è stata approvata una delibera con la quale si dà mandato all'amministrazione di chiedere alla Regione Campania uno slittamento dei termini entro il quale terminare questi lavori. In questo momento noi alla Regione non abbiamo interlocutori, perché non si è ancora insediata una giunta, un'amministrazione regionale non è ancora decollata, quindi noi abbiamo interlocutori funzionari, non politici, che fino ad oggi non ci hanno fatto intendere nessuno spiraglio, nessuna possibilità di prorago. Nell'attimo in cui noi abbiamo affidato un cantiere, diciamo la zona interessata dei lavori diventa quasi di competenza dell'impresa. Tutto il resto, non dico sono dei favori che ci concedono, ma sono delle situazioni che con l'impresa si va in qualche modo a trattare per trovare soluzioni che danneggiano il meno possibile. Quindi bisogna stare molto attenti nelle valutazioni delle cose e soprattutto nell'adottare provvedimenti che non devono mai andare nella direzione del danno all'ente.